Raccontale territorio attraverso un'alleanza pubblico-privato, doppio appuntamento organizzato dalla Regione Puglia per presentare il nuovo patto di collaborazione tra i poli bibliomuseali di Foggia, Abat, Brindisi e Lecce e le associazioni attive in ambito culturale e sociale. Associazioni, imprese culturali, cooperative, organizzazioni non governative, aggregazioni di cittadini portatori di interessi collettivi, espressione dell'associazionismo culturale e sociale che operano sul territorio potranno soffrire degli spazi e dei servizi gestiti dai poli con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio, gli spazi e i servizi di biblioteche e musei regionali in un'ottica sempre più inclusiva, imparziale e democratica, capace di colmare il divario territoriale, digitale, culturale, sociale ed economico. Questa sinergia pubblico-privato si propone di valorizzare le attività laboratoriali, espositive, di ricerche e studio, i lavori di gruppo, la formazione in presenza online e la progettazione. Da alcuni anni stiamo assistendo ad una rivoluzione culturale e sociale che rende ancora più centrale il ruolo delle biblioteche e dei musei che da luoghi di conservazione si trasformano sempre più in luoghi della conversazione, ha precisato il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno. Dello stesso avviso Luigi De Luca, direttore del Museo Castro Mediano di Lecce e coordinatore dei poli bibliomuseali, contribuire alla formazione dei cittadini responsabili, sottolinea Grazia Ribari, consigliera della Regione con delega alla cultura e tra le mission più importanti dei poli bibliomuseali della Regione Puglia.